Momenti di paura martedì mattina in via 4 novembre a Camponogara in provincia di Venezia. Il tetto di una palazzina è andato a fuoco. Sul posto sono arrivati 16 uomini dei vigili del fuoco provenienti da Mira, Mestre e Piove di Sacco con due autopompe, due autobotti, un autoscale e un carro aria. L'edificio è stato immediatamente evacuato, i residenti sono stati messi al sicuro. Fortunatamente sono rimasti in columi anche se spaventati. I pompieri hanno lavorato per circoscrivere le fiamme e limitare i danni.